E' risuccesso un'altra volta scuola contro famiglia o famiglia contro scuola per l'uso dello smartphone. Tutto è avvenuto in Vallagarina in Trentino dove un docente di religione disturbato dal suono dello smartphone di uno studente undicenne, precisiamo undicenne, ha deciso di prendere lo smartphone e naturalmente questo smartphone è stato restituito dopo qualche giorno. Il papà si è molto arrabbiato, ha incaricato un legale, ha parlato di decisione illegittima e adesso ha denunciato sia il preside che il professore di religione perché il papà si è arrabbiato, perché ha dichiarato al giornale Ladige se io avessi voluto sentire mio figlio non sarebbe stato possibile perché era senza telefonino quindi mi hanno tolto la possibilità di parlare con il mio pargolo di undici anni che comunque stava disturbando i compagni in classe ma l'uomo non si è arrabbiato per il sequestro momentaneo dello smartphone ma ha detto che era illegittima la confisca prolungata dello stesso telefonino e ha tirato fuori le garante della privacy. Il ministro attuale della pubblica istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha detto dal canto suo che è confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le ore di lezione trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e una mancanza di rispetto verso i docenti come era già stato stabilito dallo statuto delle studentesse degli studenti del 98 e dalla circolare ministeriale 30 del 2007. Quindi l'utilizzo del cellulare in classe non è contemplato dalla legge però la scuola non può sequestrare il telefonino perché se non ci sono regolamenti interni dell'istituto o dei patti di corresponsabilità educativa che prevedono questo allora può avere ragione nella circostanza il padre. Nella circolare del ministro Valditara si legge che l'utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici può essere ovviamente consentito sull'autorizzazione del docente nel caso in cui può essere utilizzato come strumento didattico. Alla luce di tutta questa discussione quindi c'è un buco legislativo perché bisogna normare anche il fatto di come bisogna tenere i telefonini in classe a 11 anni. Allora ma non ci può bastare un po' di buonsenso? Non è possibile dedicarsi nelle ore di lezione alla lezione magari far usare il telefonino durante la ricreazione e poi tenerlo spento seguendo sempre le lezioni dopo o magari utilizzarlo anche come sussidio didattico però evitare di disturbare gli altri evitare di tenerlo sotto il banco e poi farlo squillare mentre il professore sta facendo lezione è una cosa così impossibile utilizzare ancora una volta la parola buonsenso è così difficile bisogna stare sempre sulla norma sulla legge in punta di diritto per cercare di far funzionare il luogo dove i nostri figli vanno per imparare per conoscere per acquisire tutto quello che gli serve per la vita? È tutto così difficile? Lascio a voi la risposta.